Vittoria dal sapore amaro per l'Ambrosia Basket Biceglie. Nel derby casalingo dell'ultimo turno di campionato contro il Luvo, terza forza del girone, i nerazzurri, già matematicamente retrocessi da domenica scorsa, si impongono con il risultato di 74 a 61, in fondo a 40 minuti condotti senza soluzione di continuità. La pattuglia di coach Massimo Galli ha scelto dunque di congedarsi al meglio da una stagione partita con ottime prospettive, purtroppo evaporate dalla decima giornata in poi. Rosignoli, Raschi e Novati, i principali protagonisti della vittoria sui ruvesi, tra le cui fila si sono invece messi in evidenza Bonfiglio e Zerini. Vito Magarelli, direttore generale dell'Ambrosia, ha un campionato che si chiude con la vittoria dal sapore agrodolce nel derby con Ruvo. Beh sì, decisamente, anche se insomma immagino che i ragazzi ci tenessero a chiudere il campionato con una vittoria in casa e salutare così il pubblico come hanno fatto oggi vincendo e abbracciandosi alla fine tra di loro e anche insomma simbolicamente con la città di Biceglia. I numeri della stagione nerazzurra parlano di 12 vittorie a fronte di 18 sconfitte, un bilancio che Magarelli commenta così. Beh, il rammarico ovviamente è grande, anche se diciamo siamo completamente sereni. Noi abbiamo affrontato questo campionato sapendo, essendo una matricola, di dover in qualche modo lottare fino all'ultima giornata. Poi sapevamo anche che le serie retrocessioni di rete in qualche modo erano un elemento difficile da superare. Possiamo solamente insomma immaginare che se avessimo fatto questo campionato l'anno scorso, oggi con le 12 vittorie ci saremmo salvati. A fine gara inoltre sono arrivate le dimissioni irrevocabili del presidente Enrico Valentini. Di fatto si chiude un ciclo durato ben 12 anni. Biceglia ha raggiunto il massimo che in qualche modo poteva raggiungere da un punto di vista sportivo per il basket cittadino facendo un campionato di Serie A dilettanti quest'anno. Enrico Valentini, il dottore Enrico Valentini è stato presidente di questo sodalizio per 12 anni. Dopo questa esperienza ha deciso di passare la mano e ad Enrico vanno i miei personali ma immagino gli auguri di tutti gli sportivi bicegliesi per quello che ha fatto per questa città e per questo sport. Grazie a tutti.